Sì, leggiamo questo sms, sono Juventino, spero che stasera vinca il Milan, la Fiorentina è troppo arrogante, poi Fabio ci ha inviato una foto con Marcello Chirico e i capelli. Ah, ma no, ma il lavoro dell'Istituto Giglio è molto più raffinato, ragazzi, questo è un Chirico con la capilla, con il barco, con il barco, non è brutto. No, questo è un Chirico, lo possiamo rimettere in onda, se è possibile, questo lo vedremo a partire da febbraio quando sarà in Europa League, alle sue trasferte in Russia, in Lituania, e questo qua è il Chirico dell'Europa League, questo, ve lo vedete. E quando voi sarete fuori dalla Champions, non fate nemmeno l'Europa League?